Buongiorno, benvenuto nuovamente al segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina. Queste erano le parole del Ministro Toninelli, parole su cui l'opposizione ha reagito. L'attacco principale, mi pare, di aver capito sia stato quello di accusarlo di non aver dato nessuna tempistica per la ricostruzione, che è un po', diciamo, il tema. Però, insomma, in questi giorni abbiamo cercato anche di capire qual è la posizione del Partito Democratico. Devo dire che su alcune cose ancora non è stata fatta chiarezza. Per esempio, sulla revoca della concessione, il Partito Democratico che idea ha? Guardi, intanto occorre dire che l'audizione del Ministro Toninelli è stata purtroppo un'occasione mancata, un'audizione vuota dal punto di vista del cronoprogramma che ci si aspetterebbe dal Governo di fronte alla tragedia di Genova. Al di là di alcune dichiarazioni propagandistiche, purtroppo il Ministro Toninelli non è entrato in nessun dettaglio e ci si sarebbe aspettati un Ministro invece pronto ad offrire alla Commissione tempistiche, procedure, strumenti per poter valutare per bene quello che bisogna fare a Genova. Credo che la migliore smentita delle parole di Toninelli l'abbiamo avuta ieri dal Presidente e dal Governatore della Regione Liguria che ha detto è il commissario per l'emergenza di Genova, ha detto esattamente il contrario di quello che ha detto il Ministro. Io sono preoccupato di questa situazione perché anche per le immagini che abbiamo visto da Genova questa mattina, io ci sono stato due giorni fa, sono stato nel quartiere Certosa, bisogna intervenire subito e bisogna intervenire con precisione su quello che accade in quella città. Però non ci ha detto il PD che posizione ha sulla questione della revoca? Dipende di che cosa parliamo. Io sono pronto, noi siamo pronti ad affrontare una discussione anche legata alla revoca di alcune concessioni, ma mi sarei aspettato un Ministro in Commissione più preciso nel provare a discutere di che cosa stiamo parlando quando immaginiamo la revoca di qualche concessione. Se voi andate avanti ad ascoltare il Ministro a un certo punto si avventura in revoca generalizzata di tutte le concessioni pubbliche. Attenzione, perché se pensano di portare l'Italia in Venezuela, cioè di utilizzare propagandisticamente quest'idea della nazionalizzazione di tutto, devono anche dire precisamente chi paga. Perché nazionalizzare vuol dire far pagare i cittadini, vuol dire spendere una grande parte delle risorse dello Stato per alcune cose. Allora, io consiglierei di smetterla, di fare propaganda su questo e di affrontare alcuni nodi concreti. Per il Partito Democratico chi deve ricostruire quel ponte? Io credo che l'indicazione del commissario straordinario di governo Totti rispetto alla responsabilità del concessionario in tutto e per tutto, a partire da quel ponte, siano da sostenere. Io sono perché il concessionario paghi tutto e di più. Ci sono possibilità di partnership con altri soggetti. Vengano avanti concretamente. Non si perda tempo. Il ministro Toninelli ieri non ha parlato della gronda. Tutti a Genova sanno che una delle questioni strategiche per la città è la realizzazione della gronda. Il ministro che opinione ha? Che posizione ha su questo? Eludere questi temi significa eludere grande parte del lavoro che bisogna fare a Genova. Senta, invece il Partito Democratico che opinione ha sul futuro assetto delle autostrade? Laddove lei dice che è possibile discutere di revoca. A patto che non si giochi con la propaganda su un tema così delicato come questo, se venisse avanti una riflessione ad esempio legata a come riorganizziamo tutto il sistema dei controlli sulle concessioni, noi ci staremmo. Siamo pronti a fare una discussione del genere. È giusto farla. Ma non si può brandire ogni volta, in ogni passaggio istituzionale, solo l'arma della propaganda perché si fa del male al Paese così. Ma noi adesso, responsabili di governo che utilizzano con una semplicità disarmante queste parole, nazionalizzare vuol dire spendere risorse pubbliche con equilibri di bilancio come quelli che abbiamo, cosa vogliamo fare? Tornare ai tempi in cui pagava pantalone, generavamo debito e che si scaricava sui cittadini? Affrontiamo la discussione. Per me bisogna prenderla dal lato dei controlli. Come si controlla di più e meglio per l'interesse pubblico? Proviamo a farla questa discussione senza fare la battuta da tweet utile solo per fare un titolo di giornale? Però in questi giorni, proprio sul tema dei controlli, diciamo che si è parlato in realtà di una mancanza in qualche modo dello Stato, cioè del Ministero dei Trasporti, che invece in capo a sé aveva il potere di vigilare su quanto faceva il concessionario. Tutto ciò deriva da una convenzione datata ben prima dalla nascita di questo governo. Il governo di centrodestra Berlusconi lega il governo. È da lì che si parte, per amore di verità. La cronistoria dice questo. Dopodiché io capisco bene che su questo tema dei controlli, in particolare delle istituzioni e quindi del Ministero, bisogna assolutamente fare un passo in avanti. E anche per questa ragione che noi abbiamo proposto una commissione di inchiesta parlamentare sul caso specifico, per poter indagare precisamente anche dal Parlamento le responsabilità in questo caso dell'apparato statale, del Ministero, rispetto al controllo del concessionario. Ma su questi temi è giusto provare a costruire anche dei punti di unità e fare dei passi in avanti. Francamente l'occasione di ieri è stata un'occasione sprecata. Senta, le faccio vedere una grafica perché ieri a sorpresa in qualche modo Autostrada è pubblicato quei testi della concessione, anche gli allegati economici di cui si era tanto parlato. Se riusciamo a vederla in grafica ci sono quei ricavi che sono molti rispetto agli investimenti fatti e rispetto alle spese per la manutenzione ordinaria. Parliamo di ricavi per pedaggi di 2,8 miliardi, spese per la manutenzione ordinaria 287,9 milioni, spese per manutenzione ponti e viadotti davvero poca roba 31,2 milioni. Questi sono dati del 2017. Ieri Toninelli nella sua audizione ha parlato di una responsabilità che comincia nel 1999 indicando il governo D'Alema come primo fautore di questa privatizzazione che tanto male ha portato evidentemente alla rete autostradale. È vero però, al di là poi delle polemiche politiche, è vero che i governi centrosinistra in questi anni molto hanno fatto per le concessioni. Un po' di autocritica dal suo punto di vista la fate? Ma guardi, seriamente bisogna sempre ragionare su quello che si è fatto per fare di più e fare meglio e anche riflettere su alcuni passaggi anche della nostra storia. Però questa idea che non si ricordi che cos'erano gli anni 90, che cos'è stato il debito pubblico italiano, come lo Stato ha gestito le strade, le autostrade prima di una stagione anche di liberalizzazione, delle concessioni anche su questo fronte. Quest'idea di dimenticare perché a un certo punto, anche in Italia, come nel resto del mondo, si accede all'idea di partnership pubblico-private diverse rispetto al monopolio statale. Quest'idea di dimenticare la nostra storia per fare appunto propaganda è un errore, perché noi non abbiamo né bisogno di tornare indietro. Qui nessuna autocritica dal suo punto di vista? Per l'amor di Dio, le ho detto sì, se c'è bisogno di fare di più è meglio. Dopodiché io rivendico il lavoro fatto in questi anni. La desecretazione, ad esempio, di buona parte di queste procedure è ad opera dei governi di centro-sinistra. Quei conti che sono stati giustamente rappresentati sono figli della Convenzione del 2008. Allora io faccio questa proposta a tutte le forze politiche. Dismettiamo le armi della propaganda semplificata su temi strategici così complessi e proviamo a fare tutti un passo in avanti per capire meglio come si regolano questi rapporti, come si gestisce il bene pubblico, qual è la capacità di controllo dello Stato. Mettiamo, usiamo la tragedia, ahimè, di Genova per provare insieme a fare un salto di qualità nelle politiche. Senta Martina, le sono pesati quei fischi durante il funerale di Stato? Ma ovviamente sì. Come se li hai spiegati? Ma come ho provato a dire anche in questi giorni. È chiaro che di fronte a un caso drammatico come quello di Genova ci può essere rabbia, c'è rabbia, c'è disorientamento e per quel che ci riguarda ci deve essere la consapevolezza che bisogna fare di più, bisogna fare meglio. Io non ho apprezzato per nulla l'atteggiamento dei ministri e del governo che di fronte all'emergenza anziché chiamare all'unità hanno speculato su quell'emergenza. A me ha ferito quel comportamento perché sono stato abituato alla responsabilità della politica e delle istituzioni. Di fronte a casi come questi unisci il Paese, non lo dividi. E quello che hanno fatto in particolare dal governo alcuni ministri, i vicepremier, è stato vergognoso. Uno sciacallaggio di prima categoria sulla pelle peraltro di una città. Io credo che questo l'Italia non se lo meriti. Noi possiamo prenderci qualche fischio ma quel che si lascia sul campo è lo strappo del discorso pubblico, è la diffidenza nei confronti delle istituzioni. E io non credo che lucrare nel breve periodo da parte di questa quella forza politica poi alla fine convenga all'interesse generale. Può capitare anche a loro. Mi spiace perché non si sono dimostrati all'altezza la responsabilità che hanno. Senta, sbaglia, cambiamo tema, sbaglia Di Maio a minacciare di non pagare il contributo italiano all'Europa se non si troverà una soluzione europea alla questione migliante? È una presa per i fondelli degli italiani questa cosa che Di Maio ha organizzato. D'altro canto l'ha detto in maniera abbastanza chiara. Ha chiamato il Presidente del Consiglio e gli ha detto che bisogna parlare d'altro perché è in difficoltà probabilmente su alcuni temi. Faccio presente ai cittadini che il prossimo bilancio dell'Unione Europea è il bilancio 2021-2027. Si discuterà di qui a tre anni. Mettere il veto da soli, ipoteticamente. A parte che vorrei discutere nel merito. Perché per la prima volta la Commissione ha fatto una proposta di bilancio più mediterranea e meno legata all'est Europa. Che cosa vuol fare Di Maio? Dare una mano agli amici, ai nemici dell'Italia che non hanno mai aiutato il nostro paese. Vediamo che cosa succederà oggi con l'incontro tra Salvini e Orban. Però le voglio far vedere una cosa, segretario. Enzo Miglino, perché la faccenda del veto in realtà non è un inedito. La prima volta viene tirata fuori, insomma, da un capo di governo. In questo caso certo il vicepremier Di Maio e il vicepremier Salvini. Però con la clip numero uno facciamo un passo indietro di qualche anno. E andiamo a vedere cosa diceva il nostro capo di governo qualche anno fa. Gli europei hanno preso un impegno con noi che è quello di assumere alcune delle responsabilità che derivano da questo imponente arrivo di immigrati dall'Africa. Se gli altri paesi dell'Unione Europea che si sono impegnati a accogliere i migranti non lo fanno, credo che sia giusto che l'Italia dica che noi non contribuiremo, come abbiamo fatto fino ad oggi, a pagare loro tutti i soldi che paghiamo perché ogni anno noi diamo 20 miliardi al bilancio dell'Unione Europea e ne prendiamo indietro 12. Loro bloccano i porti e noi blocchiamo i fondi. Questo non è un ricatto, è una constatazione. Aiutiamoli a casa loro significa davvero investire in cooperazione internazionale, cosa che finalmente ci sta iniziando a fare. Ma questo è il punto più interessante e secondo me problematico della situazione che stiamo vivendo, dobbiamo avere la forza di dire che o l'Europa fa l'Europa sempre oppure noi dobbiamo trarne le conseguenze. Insomma, no, quello che dice Di Maio oggi non è un'inedica. C'è una differenza sostanziale però, che questi ragionamenti sono stati fatti giustamente prima della presentazione della proposta di bilancio 21-27 da parte della Commissione Europea. Maggio di quest'anno la Commissione presenta la proposta. Andatevi a leggere la proposta, scoprirete che ad esempio c'è una grande novità. Ci sono investimenti strutturali per la prima volta nella storia dell'Unione Europea per organizzare sicurezza sulle frontiere europee. C'è per la prima volta uno spostamento di risorse non indifferente per il governo delle politiche migratorie. Sa quali sono i paesi più agitati contro la proposta della Commissione? Quelli che incontra Salvini oggi sono i paesi dell'Est. L'Ungheria è capofila dell'opposizione alla proposta della Commissione. Perché? Perché le risorse si stanno spostando dall'Est Europa al Mediterraneo. Può non bastare. Discutiamo di come fare meglio, ma è un clamoroso boomerang quello di Di Maglio. Io le voglio però chiedere, perché qui parliamo naturalmente di comunicazione, comunicazione politica, ma l'Europa ci sta a guardare, i mercati ci stanno a guardare. Se sbaglia Di Maglio oggi, sbagliava Renzi allora? E allora la domanda è se questo è uno strumento legittimo. Contesti differenti. Le torno a dire. Un conto è dire quelle cose prima che la Commissione si prenda la responsabilità di fare una proposta. A proposta presentata bisogna valutare nel merito quello che la Commissione ha iniziato a delineare come punto di svolta legato ai grandi temi che noi per primi abbiamo posto. Se per la prima volta l'Europa organizza una politica di difesa, come è nella proposta? Per noi è un vantaggio o uno svantaggio? Per me è un vantaggio. Per Di Maio non lo so. Il problema di Di Maio, che ragiona ogni giorno, per il giorno dopo, e non guarda la prospettiva, l'ansia di propaganda permanente non fa un buon governo. Creda me, non fa un buon governo. Tu devi avere la responsabilità, quando governi, anche di gestire fasi dove non per forza devi avere il titolo di giornale che ti fa stare sulla cresta dell'onda. Non so quanti minuti mi rimangono, però io voglio parlare un attimo di Partito Democratico. Mi dica che ruolo ha oggi il PD. Il ruolo che gli spetta. Deve costruire l'alternativa dall'opposizione, deve farlo ovviamente lavorando di più e meglio. Chi rappresenta oggi il PD? Tante persone che non si riconoscono in questa maggioranza. Tante persone che cercano un'alternativa. È un lavoro che va fatto con grande umiltà, con grande determinazione, con serietà. È un lavoro difficile in questa fase, inutile negarlo. E però è anche il lavoro necessario. L'Italia ha bisogno di un'alternativa. C'è ancora quella vocazione maggioritaria, nazionale. Oggi la compagine di governo di fatto rappresenta il 60%. Assolutamente, c'è ancora. C'è ancora perché il Paese ha bisogno di un'alternativa. E io sono convinto che lo spazio nostro di lavoro sia più largo di quello che si vede. Bisogna farlo con grande determinazione e serietà. Lei ha detto che dobbiamo ricostruire un campo largo di centro-sinistra. Come? Con chi? Con tutte le persone che sanno che questa deriva, quella del governare pensando alla propaganda del giorno per giorno, sia deleteria per il Paese. Ma con chi? Parliamo di altri interlocutori politici? Forze civiche, forze di centro-sinistra, europeisti, che sanno perfettamente che la sovranità italiana o è sovranità europea oppure non è. Io sorrido purtroppo tragicamente di fronte alle sceneggiate di Salvini. Chieda al primo ministro ungherese se si prende un immigrato. Uno. Uno. Non dieci. Sa quanti ne ha presi l'Ungheria in questi anni? Zero. Allora, se gli alleati dell'Italia sono quelli che chiudono la porta all'Italia, io ho il dovere di costruire un'alternativa. Preferisco litigare mille volte con la Francia e con la Germania, ma sapere di avere di fronte interlocutori che vogliono la sovranità europea per difendere i cittadini, non per distruggerli. Lei come PD, lei come Maurizio Martina, che in questo momento è segretario? Sì, confermo. Sono segretario. No, certo. Lei dice che io in questo momento ho il dovere di costruire un'alternativa. Io le chiedo come Partito Democratico o come segretario o è la stessa cosa? Guardi, quando si fa il segretario di un partito non lo si fa per sé, lo si fa per una comunità. Perché la domanda successiva è ma lei si candida alle prossime? Ma questo lo vedremo sinceramente non mi pare il problema nostro. Ciascuno metterà in campo le sue proposte. L'importante è fare un lavoro insieme, allargarlo e costruire l'alternativa. Io non mi rassegno, anzi sono convinto che più si gira, più si fa questo lavoro, più si raccolgono le energie per costruire questa prospettiva. Segretario, la ringrazio per essere stato con noi questa mattinata.